... Nuovo appuntamento con l'informazione di oggi a nord-est. Sono durate più di due ore le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco. Questa mattina allungo l'autostrada 4 tra i craselli di Grisignano e Padova Ovest per un incidente fra tre mezzi pesanti che ha causato il ferimento di un autista. I pompieri arrivati da Vicenza e Padova con tre squadre hanno messo in sicurezza i mezzi utilizzando cesoi e martinetti di variegatori idraulici, hanno liberato l'autista e rimasti incastrato al posto guida. Il ferito è stato stabilizzato dal personale sanitario del SUEM e trasferito in ospedali, gli esili e altri due conducenti. E' stata assorbita anche una perdita di gasolio di un automezzo sul posto del personale ausiliario dell'autostrada e della polstrada. Un carro armato dell'esercito impegnato in una esercitazione di tiro in un poligono riservato alle forze armate sul torrente Cellina ha sbagliato mira e ha centrato un allevamento di galline di Vivaro o Pordenone. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, ma i titolari dell'azienda agricola si sono accorti degli ingenti danni provocati dal colpo soltanto questa mattina entrando nel capannone. Numerose galline sono molte nello scoppio e nel crollo di una parte del manufatto che lo ospitava la procura di Pordenone ha fatto un'inchiesta e indagini in corso da parte dei carabinieri. Ancora cronaca da Trieste, un agente di polizia penitenziaria è stata aggredita da una detenuta, è successo all'ospedale Maggiore. Adanne notizie il segretario regionale USP Triveneto Leonardo Angiulli, la detenuta è ricoverata all'ospedale e si è avventata per futili motivi contro l'agente di servizio con schiaffi e calci providenziali e rapido. È stato l'intervento della polizia penitenziaria per ripristinare l'ordine e la sicurezza presso il reparto. È stata varata oggi nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone Discovery Princess, la sesta unità della classe Royal, costruita per la società armatrice Princess Crisis Brand del gruppo Carnival Corporation. Inizierà ora la fase degli allestimenti degli interni che porterà alla consegna della nave il prossimo anno. L'ho annunciato il gruppo in una nota. Ed ancora cronaca, andiamo a Palmanova. Lo scorso fine settimana nell'ambito dei servizi programmati per il contrasto al fenomeno del traffico illecito di animali di affezione, una pattuglia della sezione polizia stradale di Gorizia ha fermato nei presi dello svincolo autostradale di Palmanova un furgone con a bordo 30 cuccioli di cane. Per ulteriori accertamenti e per verificare lo stato di salute degli animali è stato richiesto l'intervento del servizio veterinario dell'ASUFG che unitamente al NOAVA del Corpo Forestale Regionale hanno constatato il degrado e l'inadeguatezza del trasporto. I cagnolini, 5 bassotti, 4 barboncini, 2 chihuahua, 2 golden retriever, 4 spitz, 3 bulldog francesi, 6 shi-tsu, 1 shi-be-inu e 3 chou-ho, oltre ad essere trasportati in maniera inadeguata, erano malnutriti e insufficientemente abbeverati. Inoltre sono emerse diverse discrepanze, tra quanto dichiarato nei documenti sanitari e di trasporto, sulla reale età dei cuccioli. Il Friuli Venezia Giulia aggancerà la ripresa nel comparto turistico se alle PMI del settore sarà aggantita maggiore liquidità. E' quanto ha rimarcato l'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, intervenuto alla seduta della seconda commissione consigliare convocata per audire gli operatori del settore per un'analisi sulla crisi del comparto turistico. Bini ha indicato i temi che porrà l'attenzione del ministro del turismo Massimo Garavaglia nella commissione turismo della conferenza Stato-Regioni, che si riunirà la prossima settimana in primis la liquidità delle imprese necessarie per evitare di creare crediti deteriorati. Sul Friuli Venezia Giulia nei prossimi giorni continuerà l'afflusso di correnti fredde in quota provenienti dal nord o nord-est che favoriranno moderata instabilità pomeridiana. Per quanto riguarda la giornata di domani, su tutte le zone, cielo da poco nuvoloso a variabile, al mattino possibile bora moderata sulla costa, nel pomeriggio non si esclude qualche locale rovescio, eventualmente nevoso, fino a bassa quota, zero termico intorno agli 800 metri di quota circa. Temperature minime in pianura da meno 2 a più 2, le massime da 10 a 12, sulla costa minime da 0 a 5, massime anche in questo caso da 10 a 12 gradi centigradi. Passiamo al Veneto, al mattino cielo generalmente poco parzialmente nuvoloso con un aumento della nuvolosità dalle ore centrali per addensamenti cumuliformi maggiormente presenti sulle prealpi dove potranno essere associati a qualche fenomeno schiarite alla sera. Per quanto riguarda le precipitazioni, al mattino generalmente assenti, salvo una probabilità molto bassa di locali brevi e deboli precipitazioni sulle zone prealpine occidentali e zone pedemontane. Nel corso del pomeriggio aumento della probabilità fino a medio-bassa in montagna e bassa altrove, di brevi e modeste precipitazioni da locali a sparse, localmente a carattere di rovescio, eventualmente nevose, intorno ai 500-700 metri, diminuzione della probabilità di precipitazioni dalla sera. Temperature minime in lieve o contenuto calo, con valori di qualche grado inferiore allo zero, anche in pianura, e inferiori alle medie stagionali, massime stazionarie. Previsioni a cura di ARPA FWG Meteo e di ARPAV, Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Per il momento dal nord-est è tutto, appuntamento alla prossima edizione. Grazie. 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 Grazie.